un cordiale saluto a tutti voi e benvenuti al nuovo appuntamento con amici miei oggi parliamo di fitoterapia e lo facciamo in compagnia del dottor Maurizio Gasparetto. Fitoterapia una scienza antichissima ma dove e quando è nata? Ma è un dove e un quando fondamentalmente non lo si può stabilire perché proprio per il fatto che essere antica e sicuramente per il fatto che allora non c'erano i medicinali quando esistevano i primi movimenti umani direi che è vecchia come il mondo il quando tra l'altro possiamo far risalire alcuni riferimenti particolari all'Egitto cioè ci sono dei riferimenti precisi che sono stati trovati in un papiro che si chiama papiro di Ebers di circa 5 mila anni avanti Cristo dove sono presenti ben 160 piante ancora oggi conosciute a livello della farmacopea ufficiale. La scienza della fitoterapia o la conoscenza della fitoterapia all'epoca era in mano i sacerdoti e tra loro si tramandavano le varie conoscenze. Poi per risalire un pochettino più vicino a noi e giusto per spiegare dove si trovava questa fitoterapia e chi la faceva possiamo parlare della Cina nel 3400 avanti Cristo un imperatore fece il primo grande erbario su questo erbario si trovano le prescrizioni erboristiche quindi cominciamo se vogliamo parlare un po' di ricette di prescrizioni appunto. Risaliamo un pochino velocemente più vicino a noi parliamo dei greci. I greci attraverso Ippocrate nel 460 avanti Cristo poi lui visse fino al 377 inventò o la chiamò la terapia umorale cioè la terapia degli umori. Si rifaceva a quattro elementi fondamentali aria acqua fuoco e terra e che costituiscono la nostra realtà. Questi davano origine al cosiddetto flegma o muco parlava quindi di sangue, di bile, la bile poteva essere gialla, la bile nera. Alla bile nera si può far associare anche un detto quando si è arrabbiati e quindi ti viene la bile nera e si sentono dolori più in quella zona lì e in effetti la cosa ci sta molto bene. Una cosa interessante sua di lui è che fu quello che inventò la cartella clinica quindi parlava di fitoterapia e inventò la cartella clinica partendo praticamente dalla fitoterapia dove su questa cartella clinica si faceva la diagnosi e ovviamente si metteva la famosa prognosi che ogni tanto si sente anche nominare in televisione prognosi 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 prognosi. Poi ci sono i romani qui siamo molto più vicini a noi se vogliamo 40 dopo Cristo questo era un medico botanico e farmacista. Sottolineo medico botanico e farmacista perché prima di lui c'erano i filosofi che si occupavano di fitoterapia quindi era una cosa più tramandata attraverso discorsi. Qui invece si comincia a ragionare in modo un po' più se vogliamo scientifico appunto perché abbiamo il medico il botanico e il farmacista che si occupa di questo. Lui scrisse della materia medica che è un erbario che fece la storia della medicina quindi un erbario che fece la storia della medicina e già attuale anche ora oggi perché è stato in uso fino al XVII secolo. I greci siamo dopo Cristo con un famosissimo personaggio che era un medico, un famosissimo medico greco che si chiama Galeno. Galeno è quello che ha inventato la galenica cioè l'arte di preparare i farmaci sempre quindi cominciamo a parlare di veri e propri farmaci e da lui proseguiamo c'è un altro famoso che si chiama Paracelso ancora più vicino ai nostri tempi 1493-1541. Lui studiò presso l'università di Ferrara non sempre andava d'accordo con gli ordini dei professori infatti poi si spostò e cambiò quindi corso alle sue studi. È considerato il primo botanico sistemico cioè vuol dire che ha dato una forma di studio di diagnosi di prognosi quindi una diciamo un modo logico di seguire tutta la terapia attraverso la fitoterapia cioè attraverso le piante. Ecco tra l'altro dottor Gasparetto oggi la fitoterapia è una terapia mi permetta questo gioco di parole alla quale molte persone si avvicinano molte di più rispetto al passato. Sì è dunque è un po' complesso come discorso un po' c'è se vogliamo la moda ok un po' si pensa che i farmaci non facciano più niente io se mi date il permesso di spiegarvelo ve lo faccio vedere attraverso delle slide quello che secondo me in realtà è successo quindi tornando a Paracelso che diede una la forma dei semplici chiamò praticamente semplici le piante si arrivò alla fitoterapia moderna e che ha un'origine rinascimentale e quindi attraverso l'università si cominciò a studiare questa disciplina. C'è da dire una piccola chicca nostra visto che siamo di Padova un po' di campanilismo non guasta che l'orto botanico di Padova è il più antico orto universitario del mondo quindi abbiamo un bel gioiello che si sta sempre di più ampliando sviluppando e prendendo anche delle caratteristiche moderne come potete vedere nella foto della slide ultima. Allora abbiamo parlato di piante le piante fitoterapiche sono le piante medicinali combinate tra loro danno origine a un fitocomplesso. La scienza che studia questi complessi, questo modo di abbinare le piante si chiama fitoterapia che è la pratica che prevede l'utilizzo delle piante. La galenica invece si associa alle preparazioni galeniche che serve ad indicare quelle forme medicamentose mediante cui possono essere somministrati i principi attivi. Perché ho messo anche questa quando stiamo parlando di fitoterapia? Perché le aziende farmaceutiche da anni si stanno interessando a qual è la parte della pianta che ha valore terapeutico quindi il principio attivo. Quindi loro grazie ai loro investimenti siamo riusciti ad avere tutta una serie di principi attivi che vengono associati all'eventuale pianta. Oggi si fanno degli integratori appunto dove c'è la pianta o alcune piante e in più magari questo principio attivo di origine appunto vegetale che viene associato per dare ulteriore forza per far sì che questo fitocomplesso sia ancora di più terapeutico. Quindi lo sviluppo dell'interesse verso la fitoterapia è dovuto anche agli investimenti che queste aziende hanno fatto per arrivare a questo. Quello che ieri era empirico va bene e che era quindi un segreto e che cosa quindi si chiedeva cosa bolliva in pentola oggi non è più empirico dicendo appunto quello che ho detto prima grazie alla scienza che ha investito. Quindi sono stati fatti dei progressi nei metodi di indagine dovuti ovviamente alla scienza ai vari laboratori. Quindi grazie a queste forme di investimento non passa giorno che non si conosca qualcosa di nuovo che possa di conseguenza essere inserito in questi complessi oppure fitocomplessi oppure diventare farmaco. Però partendo sempre dalle piante. Ecco andiamo avanti con la fitoterapia. Fitoterapia rinnovata vedo già il titolo subito dopo l'appuntamento immancabile con la pubblicità. A tra poco. Benvenuti all'hotel a Selce di Monselice. L'hotel a Selce si trova a Monselice, splendida cittadina storica, in una posizione strategica per visitare i colli Uganei, le vicine città termali, Padova e Venezia. La Selce offre accoglienti camere climatizzate con wifi, ha un parcheggio privato e un rigoglioso giardino. Qui si trova tranquillità e discrezione, gustando un'abbondante colazione tipica italiana. È facilmente raggiungibile dall'uscita autostradale di Monselice, lungo la A13 e dista soli 200 metri dalla stazione ferroviaria. Ci troviamo in via Sottomonte 1 a Monselice, in provincia di Padova. Per informazioni non esitate a contattarci allo 0429 78 25 80. Oppure visitate il nostro sito www.hotellaselce.it. Vi aspettiamo! Per la cura dei denti non serve andare all'estero. Poliambulatorio Palladio e Centro Odontoiatrico Villa Estense. Specialisti in igiene, endodonzia, chirurgia, ortodonzia, maxillo facciale, tecnologia CEREC per protesi dentali. Reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni compresi i festivi. Ciao a tutti, sono Giulia. Vi presento il mio locale, Barsignone di Monselice. Mi trovate sempre a Monselice, in piazza 20 Settembre. Al Barsignone potrete degustare delle ottime colazioni o semplicemente ritrovarvi davanti e un buon caffè. Se volete venire a trovarmi, troverete inoltre ottimi aperitivi, cocktail o birre per il vostro dopo cena, accompagnati da deliziosi spulcetti o snack veloci. Vi aspetto in piazza 20 Settembre a Monselice, mai di mercoledì. Barsignone, vi aspetta! Rieccoci qua con il dottor Maurizio Gasparetto. Stiamo parlando di fitoterapia, ma la fitoterapia oggi si può usare per tantissime cose. Quali in modo particolare e perché? Allora, oggi grazie agli studi appunto fatti possiamo parlare di una fitoterapia che si è rinnovata, che tiene quindi conto dei principi attivi e può diventare una prescrizione terapeutica sostenuta dalla scienza. Infatti ha una sua classificazione botanica precisa, già nei tempi antichi ce l'avevano fatto, però adesso riusciamo anche a fare delle formule per quanto riguarda i principi attivi contenuti. C'è uno studio chimico dietro ben determinato e quindi c'è una verifica fisiologica, cioè noi facciamo la terapia e poi possiamo anche vedere che certi parametri, grazie all'analisi del sangue, sono cambiati oppure noi di conseguenza variare la terapia. Ippocrate sottolineava che c'era uno stretto legame tra la vita e il cibo e di conseguenza anche le piante che noi possiamo integrare nella nostra alimentazione. Tutte quelle spezie di cui oggi si sente parlare, zenzero, curcuma, hanno tutto un valore terapeutico e quindi siamo arrivati a parlare di nutraceutica, cioè piante, integratori, quelle che abbiamo detto prima, le spezie, che diventano dei veri e propri nutrimenti, cioè sostanze che hanno una efficacia terapeutica. Quindi oggi si parla di integrazione, va bene, integrazione che anche con una scienza nuova che si chiama epigenetica, quindi è un passaggio ulteriore sulla fitoterapia che si sta facendo, può influire sul DNA, ovviamente tenendolo tra virgolette, qui bisognerebbe aprire un discorso lunghissimo su questo passaggio, mettiamolo lì tra virgolette, va bene, e quindi oggi possiamo parlare di un farmaco fitoterapeutico, fitoterapico che è in grado proprio di agire sulle nostre salute, sui nostri bisogni. Quindi tutto l'empirismo di Amelia che una volta c'era, oggi non è più, non è più empirico. Ecco una domanda dottore, la fitoterapia va d'accordo con la medicina convenzionale? Sì, può andare d'accordissimo, ci sono ovviamente delle piante che devono essere utilizzate con, possiamo dire con parsimonia, delle piante che non possono essere abbinate a dei farmaci, però ci sono tantissime piante che possono essere tranquillamente abbinate al farmaco e quindi soprattutto nel mondo dei dolori, nel campo degli antidolorifici, degli antinfiammatori, artrosi, artrite. Il farmaco, diciamo così, per dire un termine leggero, tranquillizza il dolore, lo si sente meno, le piante possono piano piano magari ricostruire quello che può mancare. è una cosa che si fa regolarmente, insomma, si possono mescolare tra di loro le piante e creare dei fitoterapici, va bene, spersonalizzati a seconda della patologia di cui uno soffre, soprattutto nel caso di patologie croniche si può fare questa cosa qui. Ecco, colesterolo insomma, ecco, si può lavorare molto bene con il colesterolo. Un'altra domanda mi viene così spontanea. L'automedicazione può essere fatta oppure è meglio sempre riferirsi ad un esperto? Perché è una cosa comunque delicata, no? Allora, l'automedicazione con le piante può essere fatta. Dicevo prima il discorso delle spezie, no? Già tante persone lo fanno perché si prendono ad esempio la curcuma e la mettono sul riso, sulla pasta, la aggiungono ai piatti che loro mangiano. Lo stesso si fa per lo zafferano, lo stesso si fa per la cannella nello strudel. Quindi c'è già una forma di automedicazione. Ovviamente sono dosaggi talmente bassi che influiscono relativamente sul problema. Tornando al discorso di due piante un po' particolari che si possono usare con facilità nelle terapie continue. Possono essere la curcuma, va bene, e il riso rosso fermentato. Usati assieme hanno un grosso valore terapeutico nei confronti del colesterolo. Allora, in abbinamento magari con un farmaco per il colesterolo, seguendo ovviamente i dosaggi continuamente, si può fare questa cosa qui. È meglio però farsi aiutare, perché le piante non è perché sono piante non hanno effetti collaterali, hanno effetti collaterali. Soprattutto oggi hanno effetti, per cui si rischia magari di esagerare nell'effetto. Cioè è vero che bisogna abbassare il colesterolo, ma neanche toglierlo del tutto. Quindi bisogna lavorare assieme, si fa un periodo, dopo magari i soliti classici tre mesi si ricontrolla il colesterolo e si migliora la terapia se è andata bene o se è andata male. Insomma si può sistemare il tutto. Però è proprio questo motivo, perché le piante oggi hanno effetto, dato quello che abbiamo visto prima che la scienza ci ha portato, è meglio decisamente farsi aiutare. Altri ambiti in cui la fitoterapia diventa importante ed essenziale? Ci sono grossi studi adesso che stanno portando avanti nell'ambito cosmetico. Quindi nelle creme stanno abbinando l'utilizzo di quello che può essere la terapia naturale con la chimica, stanno lavorando su queste cose qui. Altre terapie stanno lavorando molto sull'abbinamento e c'è stato da poco un grossissimo congresso a Firenze, da poco magari no, ma sei sette mesi fa c'è stato un grossissimo congresso a Firenze tenuto da medici, dove c'erano 150 medici circa, dove parlavano proprio di medicina integrata. Medicina integrata soprattutto a livello oncologico, tradotto. Le piante non mettono a posto il tumore, diciamolo così, però possono dare una vita, una chiusura di vita un po' più, un po' migliore. Quindi possono aiutare la persona a sopportare meglio questo declino e questo passaggio che purtroppo c'è. Quindi stanno lavorando molto da questo punto di vista. In vitro ne vengono detti di tutti i colori e aspettiamo che magari un giorno dimostrino che possano funzionare anche in vitro. Comunque in questo caso è proprio l'abbinamento delle due medicine. E quanto è importante, lo ribadiamo ancora una volta, rivolgersi comunque ad un esperto in ogni situazione? È fondamentale, è fondamentale soprattutto in quei casi lì così particolari, è fondamentale. Ci sono tantissimi esperti, ci sono dei naturopati, ci sono dei farmacisti come sono io, ci sono dei medici che si stanno occupando sempre di più di questa disciplina e ci sono dei medici convenzionali, quelli che ci vedono praticamente, vedono malati tutti i giorni, che anche loro si stanno interessando a queste cose. Quindi oggi come oggi ci sono tante persone che possono essere disponibili a questa necessità, a questo desiderio magari di cambiare un pochino il proprio modo di vedere la cura. Che è personalizzata rigorosamente, ricordiamolo. Che viene assolutamente personalizzata. Ecco, qual è il consiglio che si sente di dare in questo momento attraverso la TV? È tutto praticamente un sunto di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Allora, con le piante si può fare praticamente tutto, si può diciamo curare tra virgolette tutto, sicuramente far star bene tutti. Poi si può arrivare appunto alla terapia, alla cura vera e propria. Io personalmente ho 150 piante in casa disponibili e vedo che spazio dal, diciamo, dal raffreddore, il mal di gola, l'artrite, l'artrosi, l'osteoporosi, l'osteoporosi con dolori, insomma tutto quello che si può fare con le piante riesco a farlo. E noi ringraziamo il dottor Maurizio Gasparetto per essere stato con noi in questo appuntamento di amici miei. Vi ricordo che abbiamo parlato di fitoterapia e da parte di tutti noi la rivederci come sempre alla prossima puntata. Grazie